San Gregorio Magno, scoppio all'interno di una palazzina per una fuga di gas. Feriti un quarantenne e un bambino undicenne, operaio ricoverato al Cardarelli di Napoli. Questione Parco, il sindaco di Morì Gerati, Cono Delia, comprendo i sindaci, ora servono nomi che abbiano a cuore l'interesse del Parco. Elezioni regionali, Donato Pica, confermo la mia candidatura, resto a disposizione del mio partito. Buccino, oggi conferenza stampa della UGL, sulla questione operai Ergon. Volpe, restiamo in comune in attesa di risposte certe. Diamo volume alla parola, domani la registrazione della quarta puntata presso il bar Nina Assilla di Sassano. Buonasera, ben ritrovati con l'appuntamento serale di Uno News. Come sentito nei titoli, questa mattina all'alba una fuga di gas ha provocato un violento scoppio all'interno di un'abitazione di San Gregorio Magno. Due persone che al momento erano in casa sono rimaste ferite. Un ragazzo di 11 anni ricoverato all'ospedale di Oliveto Citra, mentre un uomo di 40 anni è stato trasportato al Cardarelli di Napoli per la gravità delle ferite riportate. Questa mattina un violento boato ha svegliato il centro di San Gregorio Magno. Alle prime luci dell'alba, infatti, scoppio all'interno di un'abitazione in via Generale Lourdi, che ha svegliato tutta la cittadina spaventata e messo in allarme le forze dell'ordine. Sul posto è immediato l'intervento dei carabinieri della Compagnia di Eboli, coordinati dal Capitano Alessandro Cisternino e dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli, che hanno effettuato i primi soccorsi alle persone al momento in casa. Un uomo di origine rumena di 40 anni e suo figlio undicenne. L'uomo, di professione operaio, dopo le prime operazioni di soccorso effettuati dai volontari della Croce Rossa italiana, è stato trasportato insieme al figlio di 11 anni presso il più vicino ospedale di Oliveto Citra. Per il ragazzo, dalle prime notizie, sembra che abbia riportato solo ferite non ritenute di particolare gravità. Ben più complicata, invece, la situazione per il quarantenne, che a causa proprio della gravità delle ferite, è stato necessario il trasferimento urgente presso il Cardarelli di Napoli. Una situazione decisamente sconcertante è quella che si sono trovati a dover affrontare gli uomini del Capitano Cisternino e che ha richiesto l'intervento anche della scientifica per cercare di individuare l'esatta dinamica dell'accaduto. Da una prima ricostruzione, sembra che a causare lo scoppio sia stata una fuga di gas che ha portato alla distruzione di una parete interna dell'abitazione, oltre a numerosi altri danni ingenti e pericoli per le persone. L'abitazione è andata distrutta anche nel piano superiore, con gli infissi che sembra abbiano raggiunto violentemente la strada, che per fortuna al momento dello scoppio non era attraversata né da autovetture né anche da persone. Sul posto, dopo le prime operazioni di soccorso, sono rimasti i caschi rossi, i militari e la scientifica per mettere in sicurezza l'area e per effettuare le indagini. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che a scatenare lo scoppio sia stata l'accensione di una sigaretta con la fuga di gas che si era addensata in un'area ristretta della casa e che al momento dell'accensione potrebbe quindi aver provocato lo scoppio che si è sviluppato nelle parti più fragili della struttura. Continuano comunque le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Ebo guidati dal capitano Alessandro Cisternino per ricostruire quanto accaduto questa mattina a San Gregorio Magno. In merito alla questione che vede diversi sindaci impegnati in azioni di contrasto e di protesta nei confronti del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni, abbiamo ascoltato telefonicamente il sindaco del comune di Morigerati, Cono Delia, che ha sempre richiesto una maggiore attenzione dell'ente parco alle esigenze dei comuni ricadenti nell'area protetta. Comprendo lo stato d'animo degli amministratori locali, spiega Delia. Al momento del parco ricordiamo solo i cinghiali e i vincoli. Ora servono nomi e persone capaci che possono effettuare l'inversione di tendenza. Ascoltiamolo. La situazione è estremamente complicata, ma siamo un po' complicata noi amministratori, purtroppo, perché negli ultimi anni non abbiamo dato testimonianza di essere sensibili alle problematiche del parco. C'è un problema estremamente serio, c'è un problema di gestione. Non si può immaginare che una comunità del parco da quattro anni non abbia il proprio presidente. C'è uno scollamento tra la gestione e il ruolo di noi amministratori. Questo è il vero grande problema oggi del parco. Non sono gli amministratori che sollevano il problema, è la comunità che ci si bella, perché ci sono tutta una serie di questioni. Ci sono tantissimi altri problemi, soprattutto un problema di prospettiva, un problema di sviluppo. Un parco che avrebbe dovuto sicuramente rappresentare un volano di sviluppo, invece ad oggi per tutti, per gli imprenditori, per le comunità, anche per i giovani, rappresenta invece un problema. Questo è l'aspetto, credo, drammatico di un territorio come il nostro, che sicuramente ha delle potenzialità, però ad oggi, soprattutto utilizzando lo strumento del parco, queste potenzialità non le sviluppa e soprattutto non le capitalizza. Nell'immaginario collettivo non esiste un parco come strumento di crescita, esiste solo il parco come elemento che è capace di bloccare, di costringere a dei percorsi tortuosi qualsiasi iniziativa che oggi può esistere all'interno dell'area parco. Già per come è stato, secondo me, organizzato la perimetrazione, già questo rappresentava un problema. Però successivamente, sia attraverso il piano del parco, sia attraverso altri strumenti, ma soprattutto è venuta meno quella che era una strategia complessiva, su che cosa il parco debba fare, quali sono gli strumenti, il puntare su un'azione seria, forte, un parco oltretutto che interessa territori spesso scollegati tra di loro. Noi abbiamo dei problemi enormi oggi, abbiamo il problema della viabilità all'interno dell'area parco, c'è un problema di queste strade che cadono a pezzi, c'è un problema di manutenzione, probabilmente abbiamo anche un altro problema che ho cercato di sollevare in questi giorni, c'è il rischio concreto che noi perdiamo decine di milioni di Euro attraverso l'accelerazione della spesa, le uniche risorse disponibili ad oggi perché ancora non sono pronti i progetti sulle strade interne. Questi sono i veri grandi problemi, è su questo che il parco avrebbe dovuto, ma il parco non è un oggetto astratto, il parco siamo noi, siamo noi amministratori. La nostra assenza, il nostro polemizzare, il nostro criticare, il nostro poco costruire probabilmente ha determinato che un amministratore su sollecitazione delle comunità decida di uscire fuori dal parco, anche se io sono tra quelli che da sempre è impegnato a dare un senso all'appartenenza del mio comune all'area parco. In dieci anni, cresciuti del 127%, i furti in appartamento e rapine. Le persone denunciate per questi reati sono in aumento del 139,6%. Questi numeri hanno messo in allarme il governo che vuole inasprire le pene. Aumentano in modo considerevole gli episodi di furti e rapine in Italia. Secondo gli ultimi dati census, infatti, negli ultimi dieci anni si è verificato un raddoppio dei reati di questo tipo, passando dai circa 111.000 del 2004 agli oltre 2.500.000 episodi nel 2013. Una crescita del 127% in più di dieci anni che porta a dire che ogni due minuti viene svaliggiata un'abitazione mentre nello stesso periodo sono calati gli omicidi del circa 30%. Dati allarmanti o preoccupanti se si considera inoltre che rispetto nel 2004, nel 2013 sono state denunciate per furto in abitazione il 139,6% in più di persone. Un dato che ha fatto riflettere molto il governo e il ministro Andrea Orlando e il viceministro Enrico Costa che hanno pronto sul tavolo una ricetta che dovrebbe portare ad un inasprimento delle pene connessa agli autori di simuli reati. In questo senso ci sarebbe la volontà di inserire nel disegno di legge sul processo penale un aumento di pena per i furti in casa e rapine. Secondo le voci che circola negli ambienti romani, l'ipotesi al vaglio è innalzare il tetto della pena per i furti in appartamento dall'attuale minimo di un anno ad un massimo di sei anni ad un tetto minimo che va da due anni ad un massimo di otto. Stesso discorso per le rapine che vedrebbe aumentare soltanto la pena minima da tre a quattro anni mentre resterebbe immutata la massima che è attualmente di dieci anni. Il gioco degli aumenti bloccherà non solo i benefici condizionali ma anche il bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti. Un provvedimento che troverebbe l'appoggio anche delle altre forze governative che puntano così a ridurre questi reati odiati dalla gente che vedono violata così la propria privacy. Un provvedimento che avrebbe nelle sue intenzioni quello di ridurre quindi un fenomeno che anche nel Vallo di Diano ha preso piede negli ultimi tempi. Un nuovo compito per Gennaro Miccio per quattro anni e mezzo alla guida della soprintendenza BAP Salerno Avellino che si trasferirà in Molise per occupare il posto alla segreteria regionale del MIBAC. Dopo quattro anni e mezzo alla guida della soprintendenza BAP Salerno Avellino Gennaro Miccio lascia per un ruolo decisamente nuovo di segretario regionale per i beni delle attività culturali e per il turismo. Un incarico che Miccio andrà a svolgere in Molise dove dovrà gestire rapporti tra regione, soprintendenza e ministero proprio in ambito di cultura e turismo. Alla soprintendenza di Salerno Avellino arriverà temporaneamente Salvatore Buonomo soprintendente dei beni architettonici nella provincia di Caserta e Benevento. Una rotazione di incarichi che sino ad ora non si era mai registrata all'interno della soprintendenza. Inoltre Gennaro Miccio sarà affidato un ruolo frutto della decisione del ministro Dario Franceschini che lo scorso anno ha individuato una nuova figura di completamento e di coordinamento sulla gestione dei beni e delle attività culturali presenti nelle diverse regioni. I segretariati regionali dei beni e delle attività culturali per il turismo sono uffici di livello dirigenziale con il ruolo di assicurare il coordinamento delle attività delle strutture periferiche del ministero quindi dovrebbero fungere da collante tra il ministero e le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti sul territorio. Un ruolo completamente nuovo, quello a cui è chiamato Gennaro Miccio che lascia il suo compito alla guida della soprintendenza di Salerno Avellino per trasferirsi negli uffici a Campobasso e occuparsi per conto del MIBAC dei beni culturali del Molise. La soprintendenza di Salerno non resterà comunque scoperta con l'arrivo di Salvatore Buonomo che per i prossimi giorni assicurerà la continuità delle operazioni. Entro 15 giorni comunque dovrebbe giungere un nuovo nome ad occupare l'ufficio della soprintendenza di Salerno Avellino. Il consigliere regionale Donato Pica, questa mattina ospite degli studi di Uno TV ha smentito le voci di una sua esclusione dalle liste per le elezioni regionali. Ai nostri microfoni ha chiarito la sua posizione e la posizione del Partito Democratico. Ascoltiamolo. Ma io suggerirei di essere più prudenti prima di diffondere notizie che non sono suffragate da fatti concreti e da atti ufficiali. Nella fattispecie poi si possono interpellare le segreterie provinciali dei partiti. Il Partito Democratico, per il tramite del segretario provinciale Nicola Landolfi, ha già indicato il criterio della riconferma dei consiglieri uscenti. Quindi in linea con quanto stabilito dal mio partito, io già da tempo ho espresso la disponibilità ad essere ricandidato al fianco del Presidente De Luca, nelle liste del Partito Democratico, per l'attuazione del programma condiviso di rilancio delle prospettive di crescita e di sviluppo della Regione Campania. Ancora ciascuno di noi è anche tenuto a presentare un consuntivo, un rendicondo delle attività svolte. E quello che io ho fatto è facilmente desumibile dai mezzi ordinari di comunicazione. circa 150 interrogazioni, circa 60 proposte di legge, il primo tra tutti i consiglieri regionali della Campania. E quindi i cittadini e gli elettori potranno valutare questi dati, tenendo naturalmente presente che dall'opposizione non era possibile ottenere determinati provvedimenti, eppure in svariate occasioni ci siamo riusciti. E un altro elemento, se mi è consentito, che riguarda la chiarezza e la trasparenza dei comportamenti. In esito alla inchiesta sull'utilizzo dei rimborsi da parte dei consiglieri regionali, io ho avuto già notificato il proscioglimento in istruttoria con decreto del magistrato competente. Ora, credo che tutte queste cose valgano e abbiano un significato, però ritengo che sia giusto e anche rispettoso dei principi essenziali e rinunciabili di democrazia che il giudizio lo debbano dare gli elettori. Quindi in un contesto di questo tipo, di questo senso così orientato, io ripropongo la mia candidatura e riconfermo la messa a disposizione del Partito Democratico. Il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa nella giornata di ieri, ha respinto il ricorso presentato dalla provincia di Salerno contro l'ordinanza cautelare con cui il Tar di Salerno ha sospeso il provvedimento di sospensione dei rappresentanti dell'ente, insieme al Consiglio Generale del Consorzio ASI. In particolare, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha evidenziato che le deduzioni a base del presente appello non si presentano sorrette dal necessario Fumus Boni Iuris. E voltiamo pagina. Il Presidente Canfora ha firmato un decreto che permetterà direttamente all'ente di Palazzo Sant'Agostino avviare le gare d'appalto nel giro di un mese per lavori fino a un milione e mezzo di euro per i lavori di urgenza per la messa in sicurezza delle strade dissestate o chiuse per smottamenti nel Salernitano. Lo rimarcano il delegato ai lavori pubblici Paolo Imparato che ha sottolineato la necessità di intervenire rapidamente per non sciupare i 40 milioni che la Regione ha stanziato tramite i fondi per l'accelerazione della spesa. Procedere d'urgenza accelerando i tempi per mettere in sicurezza le strade dissestate o chiuse per smottamenti della provincia di Salerno. Il Presidente Canfora ha firmato un decreto che permetterà direttamente all'ente di Palazzo Sant'Agostino di avviare le gare d'appalto nel giro di un mese per lavori fino a un milione e mezzo di euro mentre per costi superiori si procederà come nel passato attraverso il provveditorato che però in media impiega dai nove ai sei mesi. Lo ha rimarcato il delegato ai lavori pubblici Paolo Imparato che seppur soddisfatto per lo stanziamento dei 40 milioni di euro di fondi di accelerazione della spesa teme la data del 31 dicembre che potrebbe far svanire la possibilità di provvedere con gli interventi sulle strade della provincia. C'è la necessità di intervenire urgentemente soprattutto a sud di Salerno dove in alcuni casi tra frane, smottamenti e chiusure ci sono comuni completamente isolati. In corso i lavori sulla statale 430 a Prignano-Cilento-Agropoli mentre nei prossimi giorni partiranno gli interventi per Roscigno, Bello Sguardo, Corleto-Monforte, Sacco e Pisciotta. I fondi è vero che ci sono, ci sono due tranche, ci sono circa 40 milioni di euro ma i fondi sono arrivati un tantino in ritardo perché ci sono delle situazioni di criticità con paesi isolati oramai da anni ma al di là dei fondi c'è una procedura da mettere in atta laddove ci sono movimenti franosi, prima bisogna fare un'indagine geologica e poi progettare. L'ufficio tecnico e di progettazione della provincia questo lo sta facendo, sta lavorando in tutti e due i sensi dei lavori sono in corso, dei lavori siamo in procedura di gara bene ha fatto il Presidente perché prima andavamo attraverso il provveditorato adesso le gare fino a un milione e mezzo di euro li facciamo direttamente noi come provincia il Direttore Generale ha fatto un provvedimento, ha potenziato l'ufficio appalto e gare della provincia di Salerno io penso che noi dobbiamo sfruttare al meglio il periodo primaverile ed estivo guardate questo è un fatto tecnico, burocratico, patto di stabilità io sono fermamente contrario perché secondo me movimenti franosi, viabilità, edilizia scolastica dovrebbero essere fondi che dovrebbero andare al di là del patto di stabilità questo lo dovrebbe capire il Presidente del Consiglio che prima di essere Presidente del Consiglio è stato sindaco quindi sa quando bisogna intervenire con urgenza immediatamente ci sono dei comuni isolate purtroppo noi non ci possiamo consentire perché i fondi sono il 75% fondi PSR quindi non entrano nel patto di stabilità ma il 25% entra nel patto di stabilità al di là di questo, dei fatti tecnici e burocratici, la cosa importante che noi dobbiamo finire per il prossimo inverno, le strade che sono interrotte, noi dobbiamo ripristinare la viabilità su tutta la provincia di Salerno L'ANAS comunica che sono stati prorogati fino al 31 marzo 2015 i restringimenti su tratti saltuari della carreggiata sud dell'autostrada A3-Salerno-Reggio Calabria tra gli svingoli di Eboli e Campagna tra i chilometri 30 e 36 in provincia di Salerno per proseguire i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione e ci spostiamo a Salerno dove continuano a far sentire la propria voce gli operai forestali che proseguono la loro protesta per il mancato percepimento di numerose mensilità arretrate Hanno raggiunto anche le 16 mensilità arretrate gli idraulico forestali della provincia di Salerno che questa mattina in assenza di una soluzione da parte della regione Campania sono scesi in piazza per protestare pacificamente dinanzi al palazzo della prefettura Con a capo i sindacati di CGL, Cisle e Will hanno partecipato al presidio prima di ottenere un incontro con i rappresentanti di governo di piazza Amendola anche con i sindaci e i presidenti delle comunità montane del territorio I sindacati chiedono un'immediata programmazione per garantire anche le retribuzioni relativi agli anni dal 2011 al 2014 nonché un adeguato svolgimento dei lavori di servizio e di manutenzione idraulica forestale mentre gli operai fanno i conti con problemi economici enormi che condizionano la vita delle loro famiglie Ad oggi la regione Campania non ha fatto un investimento, non ha programmato per il 2015 cioè stanno anche senza un futuro, siamo proprio in baria delle onde Quanti sono gli idraulico forestali interessati da questa vertenza? Allora, solo nella provincia di Salerno io dico che è una piccola fiat, sono 2400 di conseguenza sono 2400 famiglie che stanno senza stipendio da 16-18 mesi e invece per quanto riguarda tutta la nostra regione sono 4500 il grosso sta qua, il grosso sta qua e vista la mola di questi lavoratori che c'è noi dovremmo avere paesi e strade non più in pericolo perché loro sono idraulici forestali, sono quelli che fanno ingegneria nelle montagne Questa è come dire una tappa su un percorso che continua il 18 saremo tutti a Napoli, alla regione a proseguire la contestazione di questi lavoratori che sono senza stipendio e che potrebbero invece essere una risorsa vera per il territorio ricordiamo che loro in questo momento stanno continuando a lavorare senza una ufficiale copertura finanziaria quindi in un sistema di alia abbastanza anche pericoloso legalmente e invece potrebbero essere risorse importanti e anziché correre dietro all'emergenza se ci fosse un monitoraggio da parte dei lavoratori continuo sul territorio noi potremmo evitare una serie di disastri che annualmente accadono Questa mattina presso il comune di Buccino una conferenza stampa con la UGL ed il rappresentante Antonio Volpe sulla vicenda del mancato percepimento di diverse mensilità da parte degli operai della Ergon La conferenza stampa però si è trasformata in protesta per chiedere risposte certe da parte dei comuni Abbiamo ascoltato telefonicamente Antonio Volpe che spiega i motivi della protesta e la situazione che si vive al comune di Buccino Allora come UGL abbiamo indetto una conferenza stampa per spiegare un po' alla popolazione la situazione di questi lavoratori perché erano un attimo sbandati dopo le altre manifestazioni che hanno fatto sul comune di Buccino abbiamo indetto una conferenza stampa per spiegare il disagio che vivono questi lavoratori il disagio che vivono all'interno delle loro famiglie perché da 11 mesi non percepiscono stipendi in quanto la Ergon non paga che ci ha dimostrato di avere un credito nei confronti di tutti gli enti pari a 10 milioni di Euro Abbiamo un attimo ragguagliato la popolazione anche sulla questione del comune di Buccino che dovrebbe circa 750 mila Euro alla Ergon abbiamo messo in campo una serie di altre iniziative che sono risultati esterni anche con quanto riguarda la legge sullo smobilizzo dei crediti delle pubbliche amministrazioni e al termine della conferenza stampa abbiamo un lavoratore che è cardiopatico con 4 bypass che ha deciso di fare lo sciopero della famiglia non mi assumere più farmaci qui all'interno dell'aula consigliare e adesso siamo tutti qui solidarizzando con questo lavoratore aspettando che perlomeno si vada a comporre un tavolo per avere certezze sul pagamento perché possono tornare a casa e dire alle loro famiglie guardate abbiamo risolto arriveranno i soldi potremmo finalmente mangiare io vorrei sensibilizzare tutte le amministrazioni comunali a pagare questi soldi che comunque fanno pagare ai cittadini per il servizio della raccolta dei rifiuti così come previsto per legge all'azienda che li fa e non utilizzare questi soldi per fare altre cose e mettere in ginocchio oppure mettere alla fame decine e decine di famiglie e adesso diamo la linea alla regia per qualche istante di pubblicità ci rivediamo tra pochissimo con le altre notizie del nostro telegiornale restate con noi rieccoci studio con la seconda parte di Uno News l'amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana ha incaricato gli uffici competenti a mettere in campo misure per la riqualificazione di alcuni spazi comunali la valorizzazione di questi spazi rientra nell'attività più ampia della nuova programmazione comunale riqualificare gli spazi comunali anche attraverso la procedura di project financing questo l'obiettivo del comune di Montesano sulla Marcellana che con apposita delibera di giunta dello scorso 27 febbraio ha dato mandato agli uffici competenti di mettere in campo tutte le azioni necessarie al miglioramento degli spazi pubblici in particolare l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato Fiore Volentini ha posto l'accento su alcune specifiche aree il complesso Scialandro, l'ex scuola in località Perillo e gli spazi sottostanti via Santa Barbara in Montesano Capoluogo l'obiettivo è quello di riqualificare queste strutture pubbliche anche attraverso l'intervento dei privati come riporta la delibera della giunta comunale l'amministrazione si propone di valutare e di adoperare qualora non intervenissero misure di finanziamento pubblico specifiche la procedura del project financing al fine di far fronte alle carenze finanziarie proprie di tutti gli enti locali la valorizzazione di questi spazi rientra nell'attività più ampia della nuova programmazione comunale che anche attraverso il lavoro di approvazione del nuovo piano urbanistico comunale si sta portando avanti nel comune termale in queste settimane Torna l'appuntamento con la registrazione di una nuova puntata di Diamo volume alla parola programma ideato da Don Gabriele Petrocelli domani le telecamere saranno presso il bar Ninà a Silla di Sassano martedì scorso è stata trasmessa una nuova puntata su Uno TV della trasmissione Diamo volume alla parola un programma ideato da Don Gabriele Petrocelli con l'intenzione soprattutto di dar voce ai giovani e con loro dialogare su temi che prevalentemente interessano la loro vita quotidiana nella terza puntata i ragazzi hanno approfittato e trattato ad ampio raggio il tema delle dipendenze indipendentemente dal tipo di evidenziare in particolare come i giovani abbiano subito sottolineato che il fenomeno della dipendenza non può essere legato soltanto all'uso delle droghe e all'abuso dell'alcol a cui si aggiunge negli ultimi tempi anche il fenomeno del gioco d'azzardo ma prevalentemente dipendenza viene vista in primis dai giovani come quella strana necessità di non riuscire a rinunciare a qualcosa a qualsiasi cosa ad emergere in particolare l'impossibilità di rinunciare al telefono alla chat e ai social network questo l'argomento base che ha poi portato ad approfondire ulteriori e più ampie tematiche ancora una volta in una serata di tanto divertimento di scherzi, giochi, battute, sorrisi e tanta musica e intanto ci si sta preparando già ad una nuova puntata di Diamo volume alla parola per parlare con i giovani ma soprattutto per far parlare i giovani e ascoltare direttamente dalle loro voci cosa pensano del mondo cosa dovrebbe cambiare cosa si aspettano dai grandi e proprio per dare volume alla parola dei giovani gli incontri continuano nei posti che sono proprio maggiormente frequentati da loro domani sera la registrazione della quarta puntata che sarà ospitata dal bar Ninà a Silla di Sassano con la trattazione di una nuova tematica suggerita dagli stessi giovani al fine anche di simulare la condivisione di idee e la discussione delle problematiche attraverso il programma Diamo volume alla parola Don Gabriele Petrocelli vuole innanzitutto far capire ai giovani che parlare e discutere di argomenti seri e di profondo interesse sociale non significa smettere di ridere di divertirsi o di avviare un percorso di restrizione e di vieti ma piuttosto che entrambe le staccettature della vita possono coesistere anzi devono coesistere Grazie a tutti 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 un premio per la banca Montepruno come associazione Montepruno Giovani e alla fine si esibiranno anche le ragazze della New Dance All Dance. La passione, prima di tutto c'è una grande passione dietro tutto questo, poi c'è la gratitudine della gente perché le risate, gli applausi sono quelli che ci spingono ad andare avanti. Certamente, come diceva Claudio, in primis è la passione che ci spinge in questo, poi il divertimento perché fare parte di una compagnia si creano delle amicizie e soprattutto la voglia di regalare un'emozione, un sorriso al pubblico che ci viene sempre a guardare. Per la prima volta un'azienda agricola promuove un libro e quindi la cultura. Avverrà a Polla il prossimo 29 marzo in occasione del quindicesimo appuntamento con la rassegna Nero su Bianco curata da Carmelo Bufano. Il prossimo 29 marzo presso la sala riunioni dell'azienda agricola Agrisan di Santini Antonio in località Viscigliete a Polla si serrà il quindicesimo incontro della rassegna d'autore Nero su Bianco. La rassegna, promossa dall'azienda agricola Agrisan e curata da Carmelo Bufano, primo firmatario della proposta della città unica Vallo di Diano, vedrà come ospite lo scrittore Mimmo Calicchio, autore del libro Arrivano i Marsicani, edizioni di Buono. Un libro che racconta come avvenivano in passato gli scambi commerciali e le relazioni tra i comuni lucani e il Vallo di Diano, scambi intensi e fruttuosi per le due aree. Tuttavia, nell'opera, l'autore, più che fare un'analisi economica generata dai rapporti tra le due realtà confinanti, punta a realizzare altro. Il suo intento è disegnare un quadro antropologico e socioculturale che legava i marsicani, quindi lucani, al territorio valdianese. Un'analisi dei rapporti sociali, dei comportamenti, degli usi e dei costumi delle due realtà che per motivi commerciali venivano a confrontarsi. Ma non solo. Il libro Arrivano i Marsicani di Mimmo Calicchio vuole fare anche altro. Si tratta di un testo che porta il lettore a far riflettere sul profondo rispetto che i popoli di un tempo riconoscevano all'equilibrio uomo e natura, alla biodiversità, che la modernità ha perso e che vanno necessariamente recuperate. L'appuntamento è dunque per domenica 29 marzo alle ore 19.15 per il quindicesimo appuntamento con la rassegna Nero su Bianco. Un evento unico nel suo genere perché per la prima volta un'azienda agricola diventa promotrice di un libro e quindi della cultura. Con questa notizia si conclude il nostro Tg. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata. Grazie per averci seguito.